ciao ecco la rubrica estemporanea dei libri moltissimi ve ne presento solo tre poi gli altri la settimana prossima comincio con questo libro non è al contrario è volutamente così flavio sciolè libero teatro in libero stato con prefazione di graziano graziani e una raccolta dei testi del performer sciolè è uscito l'anno scorso ma ve lo segnalo per conoscere le attività di questo autore cambio completamente argomento e vado qui la formazione al management culturale un argomento mi tocca molto scenari pratiche e nuove sfide a cura di antonio taormina anche questo è uscito da un po ma ve lo segnalo adesso franco angeli questo costa 32 euro sciolè 15 euro e poi immancabile il nono volume testimonianze ricercazioni teatro acropolis a cura di clemente tafur e david beronio 16 euro è il libro che accompagna il festival testimonianze ricercazioni finito da circa un mese lo faccio rivedere ok vi ricordo anche questo che non cito perché l'ho già citato varie volte ma lo sapete ho questi ancora e ne stanno arrivando altri per la settimana prossima ciao 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 ciao